Mister Antignani, come accogliete questo pareggio oggi contro il Sambuceto? Considerata la gara che è stata piuttosto equilibrata a livello di occasioni, poi ha avuto l'occasione lei al 93. La prendo male, la prendo male perché all'ultimo secondo se faccio gol, come facevo una volta, oggi avevamo due punti in più. Una partita dura come ce l'aspettavamo, e sapevamo che non era la stessa partita di Coppa perché giustamente abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, tutta la nostra rabbia dopo il 4-1, bugiardo della partita di Coppa, anche perché ci siamo fatti noi i gol. Abbiamo affrontato una squadra forte, forte come organico, forte come staff tecnico, forte a livello economico, una squadra forte che non merita di stare laggiù e a maggior ragione è l'ennesima domenica che sto qui a dire che i ragazzi meritano la classifica che abbiamo, perché stiamo facendo veramente tante cose buone. Mister Ronci, pareggio a reti bianche qui sul campo di Montesilvano, un buon primo tempo dove avete creato anche delle occasioni per far male, poi nella ripresa è sembrato come se vi voleste un po' accontentare entrambe le squadre probabilmente. Per noi era importante oggi non prendere golle perché venivamo da troppe partite dove ne abbiamo presi più di due o due, e quindi era fondamentale per noi trovare un attimino un po' di compattezza come tipo di squadra. L'abbiamo fatto e abbiamo avuto delle opportunità al primo tempo, potevamo sbloccarla in più di un'occasione. Io penso che fondamentalmente abbiamo difeso bene con tutta la squadra, gli attaccanti si sono sacrificati bene, giocare su questo campo non è semplice per niente. Quindi sono contento perché, ripeto, era importante reagire, non prendere gol e cercare di sfruttare magari le occasioni che ci lasciavano. Qui abbiamo sbagliato, potevamo fare gol, però mi tengo stretto a questo punto sperando che ci dia un po' di convinzione in più e soprattutto recuperare i tanti infortunati che abbiamo perché ne sono veramente tanti fuori.